A Proda a Palermo l'attenzione dell'assessore Maurizio Croce e la vicenda dell'impianto di trattamento rifiuti speciali di Contrada Cuturi a Scicli, leader dell'autorizzazione e tutto da rivedere. Alcuni consiglieri comunali di Scicli si mobilitano contro la mancata potabilità dell'acqua, con una mozione di indirizzo si chiedono soluzioni a modi che invece ancora interi quartieri a secco. A Modica la principale arteria di via nazionale che collega il centro storico al quartiere Sorda dovrebbe tornare a doppio senso di marcia tra circa un mese e mezzo, la strada al momento ha senso unico. Proseguono le indagini delle fiamme gialle sul caso Coni Ibleo e a scuola dello sport, intanto qualche giorno fa l'ex presidente Sassà Cintolo è tornato in libertà dopo 19 giorni agli arresti domiciliari. Domenica si celebra in tutta Italia la 39esima giornata per la vita, l'iniziativa anche a Ragusa con tanti eventi in programma a partire da domani pomeriggio e con il clou previsto per domenica prossima. Ben trovati con l'informazione di Canale 74 a Proda a Palermo, all'attenzione dell'assessore Maurizio Croce, la vicenda dell'impianto per il trattamento rifiuti speciali di Contrada Cuturi a Scicli. L'iter dell'autorizzazione è tutto da rivedere. Si è spostata a Palermo la vicenda relativa all'ampliamento dell'impianto di trattamento rifiuti speciali per i colosi e non di Contrada Cuturi a Scicli. Il sindaco Enzo Giannone e gli assessori Viviana Pitrolo e Giorgio Vindigni hanno di fatti avuto ieri un incontro all'assessorato regionale Territori ed Ambiente con l'assessore Maurizio Croce per avere delle delucidazioni sulla procedura con la quale è stata a suo tempo rilasciata l'autorizzazione all'ampliamento della piattaforma. Dando conseguenzialità a quanto riportato nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania sulla revoca dell'autorizzazione, l'amministrazione sciclitana ha formalizzato la richiesta di riesame della procedura notificando un corposo documento in cui si evidenziano lacune, ritenute anche gravi, in seno agli istruttori a tali da inficiare tutta la procedura stessa. Dubbi in tal senso erano stati espressi peraltro pure dalla deputata grillina Vanessa Ferreri nell'ambito del Consiglio Comunale Aperto sulla vicenda. Con questo atto l'amministrazione comunale si fa interprete rappresentante ancora una volta della volontà civica espressa in vari momenti ed in ultimo proprio durante il già citato Consiglio Comunale Aperto del 30 gennaio scorso. L'intera comunità resta di fatti contraria all'attivazione dell'impianto che secondo questa visione avrebbe inevitabili ricadute sul territorio assolutamente dissonanti con lo sviluppo naturale del territorio stesso. La giunta ciclitana ritiene ci siano tutti gli elementi tecnico-amministrativi per cui l'assessorato regionale, cui compete la decisione in merito, prende atto degli argomenti oggettivi sollevati e assuma le conseguenti determinazioni che, sempre secondo il sindaco Enzo Giannone, non possono non portare all'annullamento dell'autorizzazione. La direttiva sulla legalità del sindaco di Scicli Enzo Giannone, che impedisce ai comuni di avere dipendenti con precedenti penali, sta creando qualche problema per la conferma delle assunzioni degli operatori ecologici. In 18 non avrebbero le carte in regola per migrare dalla Tecra alla ditta Puccia che si è aggiudicata all'appalto. Dopo il caso ACIF, un altro nodo da sciogliere per il sindaco di Scicli Enzo Giannone riguarda ancora la gestione dei rifiuti, in questo caso quelli solidi urbani. L'appalto del servizio raccolto in città è infatti stato aggiudicato dalla ditta Puccia, subentrata ieri mattina. Secondo gli accordi, 39 dipendenti dell'impresa uscente la Tecra avrebbero dovuto essere assunti automaticamente. Per alcuni operatori ecologici però ieri è arrivata una mara sorpresa. La ditta Puccia avrebbe chiesto la presentazione dei certificati penali dei suoi dipendenti e 18 su 39 non avrebbero le carte in regola per rispettare il principio di legalità che il sindaco Giannone è stato il primo ad imporre, dopo le ben note vicissitudini sulla precedente gestione del servizio, sfociata poi nell'inchiesta che determinò il commissariamento. Il primo cittadino sciclitano negli scorsi giorni aveva emanato una direttiva che prevede che la pubblica amministrazione non debba avere nulla a che fare con persone con precedenti penali. Una direttiva che la ditta Puccia è tenuta a rispettare e che di fatti ha recepito. L'amministrazione è infatti trasmessa ai dipendenti i requisiti richiesti in questi casi alle ditte. Insorge sulla scelta la FPCGL che manifesta la sua solidarietà alle famiglie colpite e attacca l'amministrazione sulla direttiva sulla legalità. Questa norma infatti, come sottolinea il segretario generale Aldo Mattisi, negherebbe qualsiasi possibilità di recupero sociale. Di sicuro a Palazzo di Città nei prossimi giorni si dovrà fare conti anche con le proteste delle 18 famiglie e degli operatori ecologici tagliati fuori. Alcuni consiglieri comunali di Scicli si mobilitano contro la mancata potabilità dell'acqua. Con una mozione di indirizzo si chiede di fatti alla Giunta di trovare soluzioni radicali e veloci alla problematica. Una mozione di indirizzo in ordine al divieto di utilizzo di acqua potabile dell'acquedotto comunale in territorio di Scicli e nelle borgate, come da ordinanza sindacale dello scorso primo febbraio, è stata presentata dai consiglieri comunali Claudio Caruso, Mario Marino, Marianna Buscema, Rita Maria Trovato ed Enzo Giannone. I consiglieri nell'atto di indirizzo rilevano per durare di tale divieto che sta causando numerosi disagi agli sciclitani, paventando addirittura anche eventuali epidemie gastrointestinali della popolazione. Senza contare l'aggravio economico che i cittadini in questi giorni devono sobbarcarsi per il consumo di acqua minerale imbottigliata per sopperire alla mancanza di acqua potabile dalla rete idrica. I consiglieri prendono quindi atto degli sforzi compiuti finora dall'amministrazione comunale per la risoluzione del disservizio che purtroppo ad oggi continua a perdurare. Proprio il sindaco Enzo Giannone aveva fatto presente nelle opportune sedi che una delle cause di tale disservizio era dato dal cattivo funzionamento del depuratore di Contrada a Fiumara, a seguito dell'ingrossamento anche del torrente di Modica Scicli causato dal recente e forte nubifragio. Il primo cittadino aveva a tal proposito fatto rilevare che si sta lavorando per ripristinare la potabilità dell'acqua ma nel frattempo i consiglieri promotori della mozione d'indirizzo chiedono che si reperiscano nel modo più veloce possibile altre fonti idriche anche private idonee all'utilizzo di acqua potabile da collegare con la rete idrica urbana di Scicli comprese le borgate, deliberando altresì lo sgravio fiscale relativo al pagamento del canone idrico dal primo gennaio 2017 fino a quando la situazione idrica non sarà normalizzata. E la situazione idrica non è migliore a Modica dove da mesi i residenti fanno i conti con il razionamento dell'erogazione dell'acqua con tutti i disagi che questo comporta. Forse il comune intende risolvere il problema allacciandosi a dei pozzi privati. Continua il disservizio dei rubinetti a secco in varie zone di Modica. Dopo un momento di apparente ripresa i cittadini lamentano di nuovo la mancata erogazione regolare del servizio idrico da parte del comune. Già da prima del nubifraggio che ha aggravato la situazione i problemi non mancavano e di fatti i disagi sono stati patiti dai residenti anche sotto le feste. I manovratori hanno in qualche modo messo una pezza con delle apposite manovre che hanno permesso il normale flusso dell'acqua nei rubinetti. Una situazione che le famiglie coinvolte sperano di ricordare tra qualche mese solo come un brutto periodo. Le zone interessate sono molto popolose da Contrada Mautomo di Calta a quartiere di Roccio Lascrofoni alla Sorda passando per Contrada Quartarella. Per le zone servite dalla dica di Santa Rosalia il comune ha fatto sapere che in un bifraggio pare abbia analizzato il livello di sostanze strane presenti nell'acqua inducendo quindi alla sospensione dell'erogazione anche se in effetti sarebbe stato spicabile un divieto d'uso di fini potabili proprio come è accaduto a Scicli dando al comune e ai residenti la possibilità di utilizzare l'acqua anche per fini igienici. A questo proposito sembra che il comune sia intenzionato ad allacciarsi ad un pozzo privato al costo di 800 euro al mese per garantire il regolare servizio idrico in via Vanella 11, via Modica Gerratana, zona Griglia d'Oro, zona Fasana, Corso Sicilia e in buona parte di Contrada Roccio Lascrofoni alla Sorda. Si tratta però di una notizia ufficiosa non confermata dal lente di Palazzo San Domenico da quale i cittadini attendono soluzioni radicali. A Modica la principale arteria di via nazionale che collega il centro storico al quartiere Sorda dovrebbe tornare a doppio senso di marcia tra circa un mese e mezzo. La strada al momento è a senso unico a causa dei pesanti danni subiti dalla pioggia dello scorso 22 gennaio. Entro metà marzo dovrebbe essere riaperta al doppio senso di marcia via nazionale a Modica al momento a senso unico in direzione quartiere Sorda per i lavori di messa in sicurezza. La principale arteria cittadina ha subito infatti pesanti danni in seguito alla pioggia torrenziale della notte del 22 gennaio. Il cedimento della massicciata che sostiene la carreggiata nel tratto centrale dell'arteria deve essere eliminato con il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Il progetto prevede il sostegno della parte della massicciata che ha ceduto con dei cassoni, veri e propri contenitori di materiale pietroso che possono fungere da sostegno. I cassoni saranno inseriti proprio all'interno della cavità creatasi e saranno impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici. L'impresa appaltatrice dei lavori è già all'opera per procedere. I tecnici pensano che 40 giorni dovrebbero bastare per completare l'intervento. Già nel fine settimana dovrebbe riaprire via Trani, bretella di collegamento del quartiere Sacro Cuore al centro storico e valida alternativa alla via nazionale. In questi giorni si stanno infatti completando i lavori per la stesura del nuovo tappetino di asfalto, visto che quello persistente è stato divelto e sollevato dalla pioggia. Un mese e mezzo è dunque il tempo che dovrebbe bastare per il ripristino di tutte le strade, la cui chiusura in alcuni casi sta causando parecchi disagi ai cittadini. Ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni ottimali all'ufficio commercio del comune di Modica, che da dicembre funziona a rilento tra mille disagi, come ad esempio il mancato collegamento alla rete internet, solo per citarne uno. Non può rilasciare moduli, non si può aggiornare tramite la gazzetta ufficiale. Tale stato di cose viene denunciato dal consigliere comunale di adesso Modica Claudio Bugliotta, che dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, esorta l'amministrazione comunale a trovare in tempi brevi una soluzione. Venera Padua, senatrice del PD, torna sull'argomento sanità e blea per parlare dell'ospedale Busacca di Scicli. La senatrice lamenta che la lungodegenza non sarebbe utilizzata a dovere, i lavori per il reparto di riabilitazione sarebbero ancora fermi, ritardi inaccettabili secondo la senatrice. La senatrice del PD, Venera Padua, pone l'accento sull'attuale situazione del Busacca di Scicli, chiedendo conto e ragione del perché la lungodegenza sia praticamente vuota e i lavori, seppur modesti per accogliere i reparti destinati alla riabilitazione, con la convenzione con il centro neurolesi Bonino Puleio di Messina, non siano ancora terminati. Nell'ampio discorso affrontato nelle ultime settimane sulla classificazione e potenziamento dei nosocomi e blei, una nota parte merita l'ospedale Busacca di Scicli, che già negli ultimi anni ha pagato molto in termini di servizi soppressi e depotenziamento. L'asse con l'ospedale maggiore di Modica consente al Busacca di non diventare ospedale di comunità, anche se a conti fatti la strada è quella, trasformandosi da ospedale operativo a struttura per lungodegenza e polo specializzato in riabilitazione. Una svolta che dovrebbe anche portare una maggiore efficienza per gli ambiti stabiliti, anche se gli ciclitani dovranno essere rieducati a rivolgersi altrove, tra Modica e Ragusa, per trovare quello che fino a qualche tempo fa avevano sotto casa. Tutto bene, purché il Busacca resti operativo e specializzato secondo quanto prospettato sulla questione intervenuta la senatrice del PD. Si è prevista una post-acuzia, quindi la neuro-riabilitazione, la riabilitazione e la lungodegenza. Non capisco perché domani è il 30 gennaio, è stato fatto un accordo, è stato firmato un protocollo con il Buonino Puleo, che è un istituto di ricerca scientifico molto importante per la nostra isola, che doveva cominciare già ad operare il 30 gennaio e ancora i pochissimi lavori che dovevano essere fatti, perché davvero non si tratta di pochi lavori, non sono stati ancora completati. Ho chiesto con molta forza al direttore generale qui presente che ci si spicciasse, che si utilizzasse questa grande opportunità per le persone che hanno bisogno, e nella nostra provincia sono tante, sono costrette a migrare. Allo stesso modo la lungodegenza, non si capisce perché si deve ingolfare la medicina e appoggiare negli altri reparti le persone che magari non possono essere accolte in medicina, allora attivare la lungodegenza che prevede 24 posti a cicli significa alleggerire la medicina qua, ma andare non a casa, perché le persone non possono andare a casa, perché non sono state ancora completamente, non sono rimesse in maniera completa, ma possono essere appoggiate in quella lungodegenza e questo permetterà di smaltire, diciamo, il truppo pieno che ci può essere in alcuni giorni, soprattutto in questo periodo, alla medicina di Modica. È tutto un sistema, è tutta una rete, qua non si tratta né di campagna di casa mia né di campagna di casa tua, si tratta di garantire la salute ai cittadini, perché è un diritto costituzionale. Il rischio paventato è che il non utilizzo appieno dei nuovi reparti possa portare all'inevitabile soppressione degli stessi, proprio dopo che tanto è stato fatto per ottenerli e poter assicurare un futuro al nosocomio ciclitano. Proseguono le indagini delle fiamme gialle sul caso Coni Bleo e Scuola dello Sport. Intanto qualche giorno fa l'ex presidente Sasà Cintolo è tornato in libertà dopo 19 giorni agli arresti domiciliari. Gli indagati sono almeno una mezza dozzina. Proseguono le indagini sulla gestione della Scuola dello Sport di Via Magna Grecia e non solo nell'ambito dell'inchiesta sul Coni Bleo che aveva portato all'arresto del già presidente dell'organismo per oltre un trentennio, Sasà Cintolo, con l'accusa di peculato. Dopo 19 giorni agli arresti domiciliari, Cintolo è tornato questa settimana ad essere un uomo libero su decisione del Tribunale della Libertà di Catania che ha annullato, con procedimento immediato, la custodia cautelare in accoglimento della richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Enrico Platania. L'ordinanza era stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa dopo le accuse sulla gestione poco chiara dei contributi che la regione siciliana nel periodo 2006-2012 mise a disposizione della scuola regionale dello sport. Si dovranno aspettare 30 giorni per conoscere le motivazioni che hanno spinto i giudici del riesame etneo ad annullare il provvedimento restrittivo a carico di Cintolo. L'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice per le indagini preliminari, producendo però una memoria difensiva incentrata sulla sua gestione dell'organismo. Dalle intercettazioni pare che Cintolo avesse intenzione di rientrare in qualche modo nella gestione della scuola dello sport da lui in precedenza diretta. Anche in questo senso procedono le già citate indagini delle fiamme gialle che al momento vede una mezza dozzina di persone nel registro degli indagati. Novità sugli sviluppi potrebbero dunque aversi già dalle prossime settimane. E ancora una notizia di cronaca, ladri minorenni in azione a Vittoria in piena notte. In tre hanno preso di mira un distributore automatico di merendine piazzato nei pressi dell'ingresso di una tabaccheria del centro e con una sbarra di ferro fanno fatto da leva per far uscire diversi prodotti. Sono stati così sorpresi dalla volante del commissariato di polizia di Vittoria intenti ad armareggiare con le merendine in tasca ma anche con cartine e filtri per confezionare le sigarette in maniera del tutto artigianale. Hanno anche tentato di fuggire ma sono stati subito bloccati. Si tratta di due fratelli rispettivamente di 16 e 14 anni e un loro amico sempre di 16 anni. La sbarra di ferro lunga 70 centimetri che avevano appositamente portato per scardinare l'apparecchio è stata poi sequestrata. Al titolare della tabaccheria sono poi stati restituiti i beni del valore di poche decine di euro. Mentre la data per le elezioni dei liberi consorsi siciliani continua ancora una volta ad essere posticipata o reslittata addirittura a dicembre il presidente della commissione affari istituzionali a Lars, Salvatore Cascio ha incontrato a Roma il ministro degli affari regionali Enrico Costa. La richiesta è quella di prevedere per le elezioni il suffragio diretto lasciando così la scelta direttamente ai cittadini. Da febbraio a luglio e infine a dicembre la data delle elezioni per i liberi consorsi siciliani continua a slittare e adesso i siciliani chiedono anche di stravolgere le modalità elettorali stabiliti dalla legge del Rio. Il presidente della commissione affari istituzionali a Lars, Salvatore Cascio ieri sera ha incontrato a Roma il ministro degli affari regionali Enrico Costa. La richiesta è quella di prevedere per le elezioni dei liberi consorsi il suffragio diretto. Secondo quanto stabilito dalla legge infatti attualmente a scegliere i futuri presidenti dovrebbero essere sindaci e consiglieri comunali delle città di ogni singolo comune appartenente al libero consorzio. Per la città metropolitana invece dovrebbe essere nominato presidente automaticamente il sindaco della città capoluogo. Cascio ha sostenuto però davanti al ministro che il voto ponderato sarebbe una prerogativa delle società per azioni e che nella pubblica amministrazione non dovrebbe essere negata la possibilità di scelta ai cittadini. Da Costa sarebbe arrivato un'apertura all'ipotesi di elezioni con voto diretto dei cittadini e Cascio dovrebbe inviare nei prossimi giorni una relazione dettagliata. Poi Roma si pronuncerà ufficialmente sulla questione. Visto lo statuto speciale della nostra regione in Sicilia si potrà mantenere la denominazione di liberi consorsi mentre nel resto dello stivale dopo il no al referendum costituzionale si dovrà continuare a parlare di province. Ma al di là della denominazione, la strada per il nuovo ente locale che avrebbe dovuto assicurare un risparmio per i cittadini e uno snellimento delle procedure amministrative sembra ancora tutta in salita. E ora restiamo a Palermo ma per un importante evento che dovrebbe coinvolgere tutta la Sicilia e non mancherà ad avere sicuramente ripercussioni culturali e turistiche anche sul territorio ibleo. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro per i beni culturali, Dario Franceschini ha annunciato che Palermo sarà la capitale italiana della cultura 2018. Un titolo importante non solo per il capoluogo siciliano ma, come dicevamo, per l'intera isola. Palermo ha battuto infatti la concorrenza con un progetto originale ma anche di grande respiro umanitario. Sentiamo allora. Sarà Palermo la capitale italiana della cultura 2018. Lo ha annunciato il ministro per i beni riculturali, Dario Franceschini che nei giorni scorsi ha aperto la busta preparata dalla commissione che premi il capoluogo siciliano che nel 2013 aveva invece visto sfumare il sogno di diventare la capitale europea del 2019. Un titolo che vale un milione di euro oltre all'esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli investimenti necessari per realizzare progetti. Una rivincita per il sindaco Leoluco Arlando che ha ringraziato la commissione ma ha anche rivendicato l'operato di Palazzo delle Aquile sul fronte dell'accoglienza. La motivazione della vittoria non si riferisce infatti solo all'originalità del progetto ma anche di grande respiro umanitario fortemente orientato all'inclusione, alla formazione permanente alla creazione di capacità e di cittadinanza senza strascurare valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee. Abbiamo vinto tutti perché siamo stati capaci ognuno per il proprio impegno a narrare le bellezze dei nostri territori ha detto Orlando. La cifra culturale più significativa e che rivendichiamo è la cultura dell'accoglienza. Un progetto che prevede anche un portale sul patrimonio artistico e ambientale con un sistema di prenotazione unico puntando sul marketing territoriale. Grande soddisfazione da parte di tutti i siciliani che credono che questa onorificenza possa aggiovare al turismo in tutta la regione. Anche Pietro Grasso su Twitter si complimenta scrivendo ripartiamo dalla bellezza della nostra storia dei paesaggi della nostra terra certamente dunque un gran biglietto da visita per Palermo e per l'intera Sicilia. E ora torniamo a Ragusa perché anche nel capoluogo ibleo si celebra in tutta Italia così come a Ragusa la 39esima giornata per la vita. L'iniziativa con tanti eventi in programma a partire da domani pomeriggio. La Chiesa italiana domenica prossima celebra la 39esima giornata per la vita che quest'anno ha per tema donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta. Con l'iniziativa si invita a educare alla vita favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. Un invito anche alla cura dei nonni e dei bambini sulla scia di Papa Francesco che afferma che attraverso di loro si realizza il sogno di Dio nella storia. Nel messaggio vengono anche ricordate le famose parole di madre Teresa di Calcutta in occasione del premio Nobel nel 1979 Facciamo che ogni bambino sia desiderato La vita è bellezza, ammirala La vita è un'opportunità, coglila La vita è beatitudine, assaporala La vita è un sogno, fanne una realtà La vita è la vita, difendila A Ragusa sono previste delle iniziative promosse dagli uffici per la pastorale della salute e per la pastorale familiare e dal centro di aiuto alla vita di Ragusa e con la collaborazione della consulta per le aggregazioni laicali Il primo appuntamento in programma è per domani con la visita agli anziani degenti nella residenza sanitaria assistita di Piazza Igea Sabato, sulle orme di madre Teresa di Calcutta si terrà la marcia per la vita con la partecipazione di parrocchie religiose e religiosi movimenti, gruppi e associazioni Il raduno è previsto nel pomeriggio in Piazza Caduti di Nassiria davanti all'ospedale civile A seguire, nella cattedrale di San Giovanni Battista ci saranno alcune testimonianze sul dono e il valore della vita e la celebrazione eucaristica con la benedizione delle famiglie ufficiata dal vicario generale Don Roberto Asta Domenica, infine, il vescovo Monsignor Carmelo Cuttitta visiterà i reparti di ostetricia e neonatologia del Maria Paterno Arezzo di Ragusa e del Guzzardi di Vittoria e celebrerà la Santa Messa nella cappella del presidio ospedaliero ragusano dedicata alle vite spezzate Bene, con questo è servizio e tutto io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione vi ricordo che ci potete rivedere sul nostro canale YouTube dedicato oppure sul nostro sito www.canalesettantaquattro.com Grazie e arrivederci Grazie a tutti